Non abbiamo stilato subito una recensione per un motivo molto semplice, perché non ci piace dare dei giudizi affrettati sul funzionamento di un device. Questa scelta tra virgolette ci ha premiato perché il telefono è stato aggiornato alla 9.0.2 di iOS. Abbiamo qui in anteprima il nostro iPhone 6s. Ci è stato consegnato al Day One, l'abbiamo reperito a Nizza, disponibile tra virgolette in tutte le colorazioni presso il nostro ufficio alla vendita. Bene, scatola, cominciamo subito un attimino a guardare la parte hardware e la scatola, scatola che è rimasta invariata tranne che per l'immagine del nostro iPhone che sarà impressa direttamente sulla confezione. All'interno troverete le classiche cuffiette con il cavo USB, micro USB con porta lighting e il caricabatterie da parete che ricarica il nostro iPhone molto molto rapidamente. Sostenzialmente la parte estetica, la parte hardware è rimasta la stessa per quello che concede le dimensioni con solo un leggero aumento dello spessore, parliamo di micron e anche di micron parliamo per l'aumento dell'altezza. Tant'è che le cover, abbiamo qua una in silicone, si adatta tranquillamente alle pareti del vostro iPhone. Forse, ma non sono nemmeno tanto sicuro, qualche difficoltà potreste averla con la cover rigida. Io non l'ho provata perché le cover rigide non mi piacciono, mi graffiano anche un attimino i bordi del telefono e quindi utilizzo sempre queste in silicone che come vedete sono perfettamente utilizzabili anche sul 6s. Per quanto riguarda appunto la parte esterna del telefono, non ci sono delle novità sostanziali. La camera aumenta a 12 megapixel per la parte posteriore, a 5 megapixel e qua la possibilità di scattare selfie con l'ausilio del display data che ci fa da flash. È migliorato tantissimo il Touch ID, non che non funzionasse bene, anzi prima funzionava 9 volte su 10, adesso funziona 10 su 10. Di una precisione e di una rapidità allucinanti, secondo me il migliore in circolazione dopo aver provato un po' tutti i Touch ID. Per quanto riguarda le colorazioni, c'è l'introduzione di questo Golden Rose che secondo me è davvero molto bello, cambia la colorazione in base alla luce esterna e all'inclinazione del device. Diciamo che va molto sul rame ed è secondo me un colore abbastanza anche elegante. Sì, è vero, rispetto magari al nero e al bianco che sono un attimino dei colori più neutri, questo comunque risulta essere abbastanza elegante. Altra cosa importante, io sto provando l'iPhone con il vetrino, l'ho provato con varie pellicole e devo dire che il Touch ID, il Touch 3D, chiedo scusa, funziona benissimo. Lo dico in virtù del fatto che molti in rete lamentavano, o meglio, si chiedevano se avrebbero funzionato tranquillamente, avrebbero consentito l'uso del Touch 3D tranquillamente di tutte le pellicole. Ebbè, io posso dire di sì, non ho preso delle pellicole particolari. Non farò quindi una recensione stando qui a dare numeri numeretti e eventuali altezze perché vi ripeto il telefono è assolutamente identico. Concentriamoci un attimino su ciò che è diverso rispetto alla precedente versione. Sicuramente è diverso il processore, abbiamo una 9 con con processore di movimento M9 che devo dire fanno girare il telefono in maniera fulminia. Sicuramente con la 9.0.1 avevo trovato qualche intoppo sull'apertura della fotocamera e magari mi dava un po' di problemi con Whatsapp. Con la 9.0.2 questi problemi sono stati assolutamente risolti. Altra cosa su cui ci tengo a chiarire la fotocamera, la fotocamera è assolutamente migliorata. L'ho paragonata con quella del Note 5, l'ho paragonata con quella dell'S6 e anche col precedente modello. E' sicuramente rispetto all'iPhone 6 una fotocamera migliore, una fotocamera più performante che se la gioca tranquillamente alla pari con quella dei concorrenti. Siamo sempre lì, è una questione assolutamente di preferenze. L'iPhone tende a scattare delle foto molto più reali rispetto a quelle della concorrenza che sono leggermente più sparate. Anche se devo dire che in alcuni casi le foto sono leggermente meno luminose rispetto alla concorrenza. Quindi qui è solamente una questione di gusti. Volevo solo dare qualche piccolo consiglio a chi eventualmente andrà a comprare l'iPhone. Secondo me è necessario subito fare una piccola cosetta. Andare un attimo nelle impostazioni, aprire la voce cellulare, scorrere fino in basso ed arrivare all'assistenza Wi-Fi e disabilitarla. Questo perché il telefono ha un sistema che vi fa passare dalla Wi-Fi alla modalità rete, quindi sfruttando i dati del vostro piano da rifare in automatico quando legge che la rete Wi-Fi è debole. Questo può portare dei costi in più e quindi un consumo eccessivo di gigabyte. Quindi io l'ho disinstallato e quindi automaticamente posso scegliere quando e come passare dal Wi-Fi alla rete o viceversa. A proposito di questo passiamo un attimo alla ricezione. Io non so che cosa abbiano fatto rispetto alla precedente versione, ma il telefono è migliorato sia in ricezione Wi-Fi che in ricezione rete, ma soprattutto ha un audio assolutamente fantastico, sia in capsula che in viva voce. Non tanto quanto potenza brutta, ma quanto pulizia e corposità del suono. Abbiamo dei bassi, andiamo un attimo qui a chiamare il 133. Il telefono è piacevolmente utilizzabile in viva voce anche in ambienti leggermente più rumorosi e in capsula il suono è assolutamente perfetto. Diciamo che si avvicina un pochettino a quelle che sono le chiamate via internet, quindi sono più pulite, il suono è più profondo. Ottima anche la ricezione del GPS. Devo dire che in ogni caso il telefono quando aggancia la rete difficilmente la perde e viene anche bene fuori da un eventuale fuoricampo. Molto più facile rispetto all'iPhone 6 di agganciare la rete. Questa è una cosa che secondo me va detta anche perché secondo me la parte telefonica di un device è la prima cosa. Migliorata anche la parte internet grazie all'ausilio di 2 GB di RAM. Non ci sono più ricaricamenti se abbiamo aperte più pagine di Safari, abbiamo multitasking praticamente istantaneo. Posso tranquillamente, come vedete, passare da un'applicazione ad un'altra senza particolari lag, senza particolari ricaricamenti. Devo dire che il telefono rimane sempre molto molto fluido. Come vedete ci sono delle ripartenze istantanee delle applicazioni e questo secondo me grazie all'utilizzo dei 2 GB di RAM. Mentre quello che contesto a Apple è la memoria ROM. Tagli da 16, da 64 e da 128, ancora una volta fuori il taglio da 32 che secondo me sarebbe stato un giusto compromesso. Nonostante questo le vendite premiano Apple, tant'è che la maggior parte degli utenti sta scegliendo il modello da 64 GB. Però effettivamente da chi sta dall'altra parte aspettarsi un taglio da 32 GB secondo me sarebbe l'ideale. Andiamo un attimino a vedere se questo così tanto discusso Touch 3D possa servire nell'utilizzo quotidiano a qualcosa. Io dico assolutamente sì. Nonostante questa sia una tecnologia assolutamente acerba, poi è ovvio che gli sviluppatori dovranno metterci del proprio per sviluppare delle applicazioni che possano essere compatibili con questo sistema. Ma devo dire che in alcuni ambiti il Touch 3D vi aiuterà tantissimo nell'esperienza d'uso. Esempio, tengo cliccato sull'email, il telefono riesce a riconoscere la pressione e il tempo di pressione, aprendomi quindi in base a ciò che vado a fare col dito a determinate schermate. Molto semplice, ad esempio entrare nelle mail e andare a vedere un pochettino quelle che sono in arrivo. Oppure magari posso tenere premuto e decidere di scrivere semplicemente un messaggio o eventualmente, come vedete, adesso ve ne apro una. Decidere di inoltrare, un attimo se lo avevo sbagliato. Apro un attimino, a parte che eventualmente i comandi sono posti qui sulla parte in basso, ma posso tranquillamente, tenendo premuta sull'email, entrare ed eventualmente condividerla. Ovviamente è bello della diretta, adesso non mi viene. Un attimino, ecco qui vado a cercare. Tengo premuto, posso con uno swipe verso l'alto rispondere, inoltrare, segnalare, spostare eccetera eccetera, quindi abbiamo un'interazione molto più semplice con il client. Per le prime due orette, tre ore dovete fare sicuramente l'abitudine alla pressione, però poi è una cosa che funziona molto bene. Esempio, anche con l'applicazione telefono, posso richiamare subito le ultime chiamate oppure posso creare rapidamente un nuovo profilo. Posso utilizzare questo tipo di sistema anche magari nel browser internet. Posso tenere premuto la liconcina di Safari ed andare un attimino nei preferiti, nei segnalibri e aprire un nuovo pannello. Apriamo un attimino il browser internet, andiamo sul sito del Corriere della Sera, che utilizziamo come nostro benchmark. Come vedete il telefono è fulminio nell'apertura e nel caricamento della pagina. Lo scroll che utilizza iPhone è sempre uno scroll controllato, ma devo dire che non ci sono assolutamente lag e incertezze. Per richiamare la versione desktop di un sito posso fare in due modi. O tenere premuto sull'iconcina che ci ricarica la pagina, un attimo solo perché ho tolto il dito, per far sì che si possa vedere. Allora, vediamo la pagina, teniamo premuto e come vedete posso richiamare la modalità desktop. Modalità desktop supportata davvero bene, come vedete nonostante degli scroll che non si faranno mai durante una giornata, sono degli scroll veramente giusto da prova, anche il pinche e il pan sono assolutamente perfetti. Posso tranquillamente entrare in una notizia, verrà aperta all'istante e sarà subito disponibile per la lettura. C'è anche la modalità reader che come vedete va a tirare via tutte le immagini, lasciandovi solo il testo da leggere, implementazione molto molto comoda. Oppure posso eventualmente richiamare il sito desktop semplicemente premendo il tasto di condivisione e andando a cercare richiedi modalità desktop. Quindi abbiamo una doppia possibilità. Secondo me attualmente il browser internet di iPhone Safari è sicuramente quello più veloce. Poi, chiaro che ognuno ha la propria opinione, ma io l'ho paragonato con Chrome e con i vari browser stock di altri produttori e devo dire che Safari secondo me è il migliore. La parte media l'abbiamo un attimino vista. Altro appunto. Adesso io l'ho cancellato perché il mio acqua memoria non mi serve a niente. Ho provato due giochi. Ho provato Real Racing e FIFA. Chi dice che l'iPhone nel gaming perda dei frame, secondo me, deve un attimino divantare la propria vista. Questo perché? Perché sul gaming l'iPhone è nell'apertura il telefono che apre i giochi in maniera più rapida. Parliamo di 4-5-6 secondi e 4-5-6 secondi più rapido nell'aprire il gioco che scorre sempre fluido. Non ci sono particolari riscaldamenti nonostante la parete metallica del telefono. Quindi secondo me è un telefono che nel gaming verrà molto molto apprezzato. Andiamo ad aprire anche un attimino la galleria per vedere qualche scatto che abbiamo fatto. Ne facciamo anche qualcuno live. Andiamo a spiegare anche un attimo il problema delle live photos. Qualcuno in rete ha sentito che magari le fotografie delle foto dell'iPhone 6S sono inferiori, eccetera, eccetera, eccetera. Anche questa è una cosa che assolutamente smentisco. Questo perché? Se vado ad aprire la fotocamera, prima cosa abbiamo un focus, un autofocus del telefono molto rapido. Abbiamo anche la possibilità di scattare rapidamente. E come vedete le foto sono assolutamente buone, ricche di dettaglio. Ma soprattutto vi assicuro che quello che vedete nella fotografia è il colore originale dell'oggetto, forse ho sparato troppo la luminosità, dell'oggetto che state vedendo. Quindi per ciò che riguarda i colori, l'iPhone è assolutamente fedele. Secondo me è il migliore a livello di riproduzione dei colori. Certo che le foto non sono molto molto luminose, ma questo non dipende dal telefono, ma ciò che è l'ambiente circostante. Se invece io vado a scattare, vedete, attivando live photos, che cosa succede? Succede che in una frazione di secondo il telefono gira una piccolissima GIF. Questo fa sì che, come vedete, l'esposizione della foto possa sembrare sbagliata, ma non è sbagliata l'esposizione della foto. Il fatto che il telefono ha preso un piccolo frame del video, che quindi non è nella sua migliore qualità, è automaticamente la foto, in questo caso, apparirà sfocata. Nel momento in cui vado a disabilitare le live photos e vado a scattare, lo scatto, come vedete, è assolutamente rapido, è ricco di dettagli e riprende di pari passo quelli che sono i colori dell'ambiente esterno. Quindi anche la fotocamera, secondo me, è assolutamente da promuovere e mostra passi in avanti rispetto a quella dell'iPhone 6. Possiamo utilizzare anche la gamma frontale, che è da 5 megapixel per i flash in zone con scarsa visibilità. Possiamo utilizzare il display come flash. È possibile anche, nell'impostazione, andare a settare i video in 4K. C'è una piccola differenza tra l'iPhone 6S e l'iPhone 6S Plus, ovvero lo stabilizzatore, che sul piccolino di casa Apple è di tipo digitale, mentre per quanto riguarda il 6S Plus è di tipo meccanico. Diciamo che nei video questa differenza si vede assolutamente pochissimo, anche perché quelli del 6S sono dei video molto ben stabilizzati. Quindi, quello che Apple potrebbe migliorare è la cattura dell'eventuale suono e degli eventuali rumori esterni. Lì si può fare qualcosina in più. Per quanto riguarda lo speaker, andiamo un attimino ad aprire un file audio. Andiamo un attimino in musica, anzi facciamo così. Apriamo un attimino l'applicazione Deezer, facciamo un attimo il login. L'ho disabilitato perché stavo passando l'applicazione su un altro dispositivo per fare le mie eventuali prove. Senza che andiamo a scaricare un brano preciso, possiamo tranquillamente prendere uno a caso. Andiamo a chiudere l'applicazione. Come vedete, anche se la musica, se la canzone non era una delle più performanti, avete sentito la grossa corposità dei bassi. Altro appunto, andando a scorrere nell'ultima pagina a sinistra, possiamo trovare i suggerimenti di Siri, che in base alla posizione in cui ci troviamo, grazie alla geolocalizzazione, ci dà la possibilità di accedere rapidamente a determinati contatti, a determinate app, e ci dà anche qualche consiglio su eventuali file da poter aprire. Vi voglio mostrare anche un'altra cosa. Ehi Siri! Che tempo fa San Giorgio a Cremano? Dunque, i comandi vocali di Apple, quindi Siri, sicuramente sono tra i più performanti, forse Siri è la più performante. Si può attivare, si può abilitare anche a telefono spento, senza la necessità di andare a cliccare su un particolare tasto. Su altri dispositivi questo tipo di funzione è possibile solo attivarla con il telefono in carica, invece in questo caso, sull'iPhone, possiamo farlo anche nella maniera più naturale possibile. Quindi, anche i comandi vocali sono assolutamente promossi, e come vedete, se non pronuncio la fatidica frase, il display non si attiva, quindi riconosce anche molto bene il linguaggio e la voce. Un altro appunto che volevo fare a Apple è che nelle prossime generazioni di iPhone, se è possibile l'implementazione nel multitasking di un eventuale tasto più di tutte, semplice, niente di particolare, nessuna richiesta scientifica, insomma, in Apple potrebbero fare qualcosa per accontentarci. Un'ultima panoramica la diamo alle foto che ho scattato in questi giorni, sempre per togliervi qualche dubbio sulla fotocamera. I dettagli, come vedete, sono davvero ottimi, andiamo a vedere anche un'eventuale macro, dove la velocità di messa a fuoco è assolutamente fulminia, e le macro sono molto molto dettagliate. Ho cercato di non dilungarmi in cose futili, nonché inutili, perché il telefono comunque è un'evoluzione naturale del precedente. Per chi volesse contattarci per sapere disponibilità e prezzi, lo può fare sul nostro sito www.multibrandproject.it oppure sulla nostra pagina Facebook o sulla nostra community Multibrand, sempre presente su Facebook. Da Luigi Raiola di Multibrand è tutto.